come avete visto dal clip siamo arrivati nel luogo dove reciteremo il video cercheremo di non parlare più di tanto perché non sappiamo se c'è qualcuno oppure no e niente ora stiamo cercando una via d'entrata ma penso che scavalcheremo il muro intanto guardate l'edificio ragazzi siamo dentro già più o meno ora entreremo dentro l'edificio cercheremo di non parlare tanto perché non sappiamo se c'è qualcuno come vi ho detto prima vediamo un po' cosa ci aspetta 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 Grazie, siamo già dentro da un po', e questo è un sanatorio dove vediamo ricoverati i pazienti che avevano problemi delle vie respiratorie. Questo sanatorio sorge negli anni 20, ma viene abbandonato subito negli anni 50, o tra gli anni 40 e gli anni 50, e viene dalla seconda guerra mondiale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.